Oltre 20 ragazzi sui banchi e altri in arrivo nelle prossime settimane, ha preso il via il 55esimo corso arbitro organizzato dalla sezione AIA di Arezzo. A dare il benvenuto agli aspiranti fischietti e non solo, il presidente della sezione aretina, Sauro Cerofonini, ma anche sue vice e guardaline, Scatragli e Pagliardini, due elementi della sezione AIA di Arezzo promossi pochi mesi fa in serie B. La prima lezione tenuta da Ciro Camerota, ex assistente in serie A, è servita per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con l'ambiente della sezione e con il mondo arbitrale. Le norme del gioco, del calcio saranno il pane quotidiano delle lezioni che saranno tenute presso l'arbitro club in Viale Gramsci ad Arezzo. Ogni sabato pomeriggio e domenica mattina fino a dicembre il corso si svilupperà nella sua parte teorica. A metà dicembre la prova che permetterà agli aspiranti fischietti di esordire già nel prossimo mese di gennaio nei campionati giovanili. Per tutti i ritardatari e gli indecisi c'è ancora tempo, fa sapere il presidente Cerofonini, basta rivolgersi nei prossimi giorni presso i locali della sezione AIA di Arezzo in Viale Gramsci per ricevere tutte le indicazioni del caso. Intanto il volantinaggio e il passaparola ha sortito il suo effetto con già 20 ragazzi pronti in aula ad assaporare il mondo arbitrale. Tra questi tanti 15 anni e 17 anni che sognano anche un futuro nel mondo del calcio.